Il primo brano che ascolteremo è Walser Scherzo di Shostakovich e esegua il flauto Alessandro Ducro accompagnato al pianoforte dalla maestra Valeria Simico. Il primo brano che ascoltano al pianoforte dalla maestra Valeria Simico. Il primo brano che ascoltano al pianoforte dalla maestra Valeria Simico. Il primo brano che ascoltano al pianoforte dalla maestra Valeria Simico. Il primo brano che ascoltano al pianoforte dalla maestra Valeria Simico.